Consiglio e Parlamento europeo hanno raggiunto l'accordo per una direttiva che punta a tutelare i diritti dei lavoratori delle piattaforme digitali come autisti e fattorini, spesso classificati come autonomi anche se di fatto seguono regole e orari di un lavoratore subordinato. Non ci possono essere falsi lavoratori autonomi in giro tra i rider tra categorie di lavoro che sono tra le più sfruttate, tra le meno pagate, tra le più precarie. O sei un lavoratore autonomo, vero, o sei un lavoratore dipendente ti meriti quelle tutele sociali. Il testo legislativo include cinque indicatori, limiti massimi alla retribuzione, monitoraggio tramite app, controllo degli incarichi, imposizione di un orario di lavoro e obbligo di indossare una divisa. Se almeno due di questi sono soddisfatti, il lavoratore può presentare istanza alle autorità competenti per essere classificato come dipendente usufruendo dunque di ferie, malattie e maggiori tutele sociali. Toccherà l'azienda dimostrare eventualmente il contrario. Le lobby dei plateformi hanno riuscito a trovare degli alliei nel senso del Parlamento, ma soprattutto nel senso del Consiglio dell'Unione Europea che rappresenta gli Età membri. E quindi, fino al ultimo momento, hanno fatto tutto per tricotare, per sabotare la direttiva. Siamo passati a due due, di avere una direttiva che non sia favorabile per i lavoratori, ma che sia favorabile per le plateforme, che sia una direttiva pro-Uber. Secondo i dati della Commissione Europea, circa 5 milioni e mezzo di lavoratori sono ora erroneamente classificati come autonomi. Il nuovo testo renderà più semplice la corretta riclassificazione, più trasparenti gli algoritmi per l'assegnazione degli incarichi e più severe le limitazioni sui dati personali del lavoratore. Grazie.